In Italia mancherebbero aree dedicate alla sepoltura di musulmani, ma a quanto pare Bari e Gioia del Colle sono le uniche ad averle. Una delegazione della comunità musulmana anche a Foggia ha provato a sollecitare per l'istituzione di una piccola area all'interno del cimitero foggiano dedicato alla sepoltura dei fedeli di Allah. Una decisione che si baserebbe sui principi sanciti dalla Costituzione, in particolare dagli articoli 8 e 9, che garantiscono la libertà e l'uguaglianza delle confessioni religiose, come anche il DPR 285 del 90, che prevede piani regolatori cimiteriali che prevedono reparti speciali separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti, un culto diverso da quello cattolico. Lo ha spiegato il consigliere comunale Nunzio Angiola, segretario provinciale di Cambia, e Armando Morelli, responsabile immigrazione dello stesso movimento civico, il quale spiega come si è articolato il rito funebre islamico e di come si abbia necessità primaria riconoscendo l'importanza del rito di sepoltura, permettendo di rispettare i propri principi, anche in momenti delicati come quelli del lutto, dando rispetto e dignità a ogni cittadino. Dopo aver ricevuto una lettera con 113 firme trasmesse al comune, Angiola e Morelli hanno depositato una mozione in consiglio comunale per destinare un pezzo di terra ai defunti di religione islamica, seguendo un progetto a costo zero di realizzazione in necropoli e che non richiede l'edificazione di alcuna struttura, dando luogo all'inclusione e al rispetto per la comunità musulmana presente sul territorio e che hanno figli e cittadini presenti sul territorio, nati e cresciuti in Italia, conclude Angiola.